come va grazie per essere su questo canale come potete vedere e come sapete ce le hanno inseminate fortemente fin dalla prima infanzia e queste parole le hanno diffuse molto chiaramente attraverso la bibbia io sono il signore tuo dio non avrai altro dio al di fuori di me quello che abbiamo consentito di fare invece è stato creare un altro idolo e di adorarlo ma in queste parole non era previsto di inginocchiarsi davanti ad un sacerdote e dare il potere al prete con questo potere abbiamo accettato e deciso di mettere nelle mani del prete la nostra vita in molti video su questo canale ho espresso molte volte che siamo noi creatori del nostro universo e che abbiamo il potere di cambiare la nostra vita nel modo che più desideriamo se pensate che tutto ciò sia malefico satanico o qualcosa di simile adesso vi mostro qualcosa di veramente satanico è una svolta storica in materia di pedofilia quella che papa francesco impone proprio nel giorno del suo ottantatresimo compleanno vergoglio infatti prosegue la sua strenua lotta contro la piaga che negli ultimi decenni ha più ferito la chiesa abolendo il segreto pontificio sui casi di abusi sessuali commessi da chierici sui minori e questo l'effetto del re scritto pubblicato martedì con cui viene promulgata un'istruzione sulla riservatezza delle cause e in cui all'articolo 1 si prevede appunto che non sono coperti dal segreto pontificio le denunce i processi e le decisioni riguardanti i delitti in materia di abusi sui minori quelli che nella normativa canonica si definiscono delicta graviora cose come queste significano che questi preti si sono messi al di sopra di dio e che dovrebbero comunicare attraverso il papa francesco perché è veramente pericoloso avere dei collaboratori così perversi bisognerebbe sapere qual è la sua opinione vera di papa dopo queste notizie è chiaro che non sono cose che ha fatto lui non abbiamo alcuna prova di questo ma avete appena visto le testimonianze in merito ai suoi preti su euro news il report afferma che in quel periodo di abusatori sono stati circa 3.000 di cui due terzi sacerdoti ma questa della francia è solo una delle notizie segnalate ma che ne è delle altre notizie che non sono state portate alla luce non vi racconteranno mai la verità né il papa né i preti perché non possono è una cospirazione come quelle in atto di non raccontarci la verità su chi siamo tutto quello che fanno è solo per loro per l'elite usano le loro parole per creare il loro mondo senza il nostro consenso l'unico consenso di cui hanno veramente bisogno è la nostra sottomissione attraverso l'ignoranza noi accettiamo tutto questo senza prendere iniziative senza fare le dovute ricerche indipendenti e tutto questo è quello che piace a loro un infiltrato del vaticano ha detto alla cbs news che è un numero incredibile di sacerdoti ci sono delle prove inconfuttabili della copertura i dati si basano sulle ricerche che la commissione ha svolto per due anni e mezzo ascoltando le vittime grazie ad una hotline analizzando gli archivi della polizia e dei tribunali sulla chiesa è l'ultimo il più alto numero di vittime rivelato nei report dell'investigazione a livello mondiale che ha aiutato a sollevare il velo attorno agli abusi sessuali della chiesa la cbs francese ha chiesto alle vittime il perdono e adesso il vaticano dovrà commensare tutto quello che devo ricordare è questo esiste una cospirazione per nascondere la verità la verità è che siamo noi creatori noi creiamo la nostra realtà e fin tanto non ci riprendiamo il nostro potere se come esseri umani non ci svegliamo da questo sogno che chiamiamo vita tutto rimarrà così la parola come ogni allegoria e metafora non è mera descrizione ma è un'entità creativa scegliendola si sceglie e si genera una realtà le parole creano le parole generano energia usatele con saggezza